Oh, here I go again I wake up every morning to this groundhog day Thinking about the list of things that I've done wrong Can't even count, it goes on too long Prima di iniziare vorrei salutare e sponsorizzare un canale molto bello che tratta di cinema è un mio amico si, faccio raccomandazioni che si chiama Cam 1.7 trovate tutto in descrizione tutto, nome e link fa recensioni di film ed è molto bravo sicuramente più bravo di me quindi passate sul suo canale altrimenti lui mi ammazza fa strano dopo oltre tre mesi tornare davanti alla telecamera non so più come muovermi, come parlare neanche quasi come montare un video tre mesi di vacanze, viaggi decisioni importanti e adesso magari anche un trasferimento I try to change my ways I feel like I'm the villain in some crappy play the book has long been written but I'd rather be just about anyone else but me I hope you see per l'università forse sono tornato o meno, non lo so sono sicuramente tornato per questo video sono sicuramente invogliato a farne altri nei prossimi mesi, nelle prossime settimane sono invogliato a ricominciare ma non so se potrò farlo non so se il tempo universitario me lo permetterà oppure invece riuscirò tranquillamente a bilanciare il tutto andrò in un residence quindi avrò un coinquilino non so se avrò il tempo e il modo di fare vita senza insurbarlo il mio futuro è tutto un grande punto interrogativo però ci tenevo a salutare tutti voi che mi eravate mancati siete quattro gatti ma mi sono affezionato a voi quattro gatti se tornerò che cosa tratterò? beh, ora come ora non è facile dirvelo ma sicuramente continuerò a trattare di televisione se ci riuscirò inoltre poi magari ci saranno altri video come magari avevo già annunciato sulla pagina Facebook sull'altro canale qualche consiglio per viaggiare negli Stati Uniti o altri video su questo canale lontani dal mondo della televisione come sono stato solito fare in base a come la mia vena creativa e il mio tempo e le mie risorse riusciranno a permettermi mi mancava parlare come un idiota davanti a una telecamera che poi io vorrei ritornare a parlare di televisione ma appena sono tornato ho visto la guida tv della settimana quella più aggiornata della settimana successiva e mi sono trovato in copertina forse non lo vedrete ecco adesso lo vedete lei ora capite che io tra Barbara D'Urso e il ritorno del grande fratello sono un attimo demoralizzato a riaccendere la televisione o a parlare di essa fortunatamente ci sono tante altre cose di cui posso parlare tante altre cose interessanti e nuove altri ritorni alquanto inaspettati chiudo questo vlog perché non so più cosa dire probabilmente avrei altre cose da aggiungere ma la mia testa è bacata e non me le ricordo la mia speranza è che potrò aggiungerle in futuro in qualunque altro video la mia speranza è di vedervi ancora o meglio che voi vediate me grazie per avermi sopportato anche oggi grazie per aver sopportato la mia scarsa qualità canora grazie per tutto quindi ormai mi ho annoiati con tutte le mie parole e con tutte le mie promesse di chiudere il video ciao arrivederci noi ci vediamo al prossimo video